Buongiorno da Edo, prima di iniziare con i news di oggi mi voglio unire alle celebrazioni, ai festeggiamenti che sta lanciando la Free Software Foundation, FSF, per i 40 anni del progetto GNU. Precisamente il 27 settembre del 1983, quindi 40 anni fa, Richard Stallman annunciò i piani per la creazione di un sistema operativo che lui chiamò GNU, che è un acronimo ricorsivo che significa GNU is not Unix, ed era appunto pensato per essere un intero sistema, una collezione di programmi per gestire un computer e il kernel. E lui creò effettivamente un sacco di programmi che sono alla base delle distribuzioni che noi usiamo tutt'oggi. Quello che non riuscì a creare fu il kernel e una mano in questo senso, un grosso contributo, arrivò con l'inizio degli anni 90 quando Linus Torvalds creò il kernel Linux, appunto. E quindi poi le distribuzioni Linux, cosiddette distribuzioni Linux che noi usiamo oggi, in realtà per la maggior parte sono distribuzioni GNU Linux, perché appunto nel software della distribuzione del sistema che noi usiamo ci sono tanti software GNU, o comunque software basati su quello che era la collezione di programmi GNU. E leggendo gli annunci di questa celebrazione mi sono così interrogato su quanti effettivamente oggi sappiano che Linux è soltanto il kernel, che la collezione dei software che stanno sopra in realtà è GNU, una cosa creata negli anni 80, ben prima, una decina d'anni prima dell'arrivo di Linux, molto prima della diffusione del concetto, della parola stessa open source, quando un visionario, appunto, Stolman, decise di creare questo sistema completamente libero, completamente in mano agli utenti, senza nessuno scopo commerciale, e creò una collezione di programmi che di fatto usiamo oggi, su cui gran parte del software intorno a Linux oggi è basato, sto parlando di GCC, di GLibC, di Emacs, di Bash, ma poi anche di GNOME, GhostScript, insomma, l'elenco è abbastanza lungo, e quindi, insomma, la battaglia, da una parte, la battaglia di Richard Stolman è stata vinta, nel senso che le distribuzioni dominano il mercato, soprattutto il mercato dei server, ma stanno prendendo piede anche sui desktop, insomma, GNU Linux sta davvero avendo un ruolo di primo piano nell'informatica mondiale, ma dall'altra parte, però, a livello comunicativo, forse è un po' perso, nel senso che il nome GNU si fa sempre di meno, le distribuzioni Linux vengono chiamate, appunto, soltanto distribuzioni Linux, e ci si riferisce a il sistema operativo Linux solo con questo nome, e non ricordando, appunto, il prefisso GNU, che sarebbe la cosa corretta, no? GNU Linux. Quindi, da questo punto di vista, un po', effettivamente, è una battaglia non vinta, ecco, posto che gli interessi vincere questo tipo di battaglie comunicative, però, insomma, è giusto e doveroso ricordarlo, quindi il 27 settembre sono 40 anni dall'arrivo, dall'annuncio di GNU, e ora direi di fiondarci, invece, nelle news di oggi. Allora, e partiamo con un aggiornamento su un tema che abbiamo seguito abbastanza da vicino, abbastanza intensivamente, che è tutta la questione del fork di Terraform. Allora, ora non sto a recapitularvi esattamente i dettagli dell'accaduto, potete andarvi a cercare le puntate sui miei canali, insomma, per vedere un po' tutta la vicenda, però, molto, molto riassunta, AshiCorp, che è l'azienda che ha creato alcuni software, tra cui il più importante è Terraform, ha cambiato la licenza d'uso di questi software, passando da una MPL, una licenza open source, a una BUSL, una business source license, che non è, invece, una licenza open source, con una struttura serie di limitazioni. La community attorno a Terraform, che comprende anche molte aziende che usano Terraform e rivendono prodotti basati su Terraform, è ovviamente in sorte, in protesta, ha chiesto ad AshiCorp di ritrattare, di rivedere questa decisione, ma poi, vedendo dei rifiuti in questo, hanno creato, ha creato un manifesto e poi un fork di Terraform chiamato OpenTF, e ne abbiamo parlato, abbiamo visto il repository su GitHub, con il fork effettivo di Terraform chiamato OpenTF, con il manifesto, con tutte le, appunto, le intenzioni delle aziende che hanno firmato e hanno fondato questo manifesto, una delle intenzioni era, appunto, di creare una fondazione, oppure, cosa più auspicabile, entrare, essere accolti sotto l'ombrello di una fondazione già esistente, una grande fondazione già esistente, come, ovviamente, la Linux Foundation. Ed ecco che l'annuncio di oggi, in realtà, di ieri, di questi giorni, dove si sta tenendo, tra l'altro, l'Open Source Summit a Bilbao, in Spagna, proprio in questa grande conferenza, c'è stato l'annuncio ufficiale che OpenTF entra a far parte della Linux Foundation, dei progetti governati dalla Linux Foundation, ma non con lo stesso nome. Il nome è stato cambiato. Il nome è stato cambiato, tra l'altro, in un processo collaborativo che ha portato alla scelta democratica, diciamo, del nome, ed è stato scelto questo, che, secondo me, vince il premio di miglior nome di progetto open source dell'anno, che è OpenTofu, tra l'altro con anche un logettino carino che ricorda il Tofu. Quindi, insomma, OpenTofu è effettivamente lo stesso progetto di prima, lo stesso OpenTF, con anche le stesse persone dentro, le stesse aziende, però è abbracciato, appunto, dalla Linux Foundation. Sul sito di Linux Foundation c'è l'annuncio completo, ecco, dato a Bilbao, e si ricordano l'elenco delle aziende che stanno dietro alla creazione di questo progetto, e sono Harness, Grantwork, Spacelift, M0, Scalar, Digger, Terra Team, Mass Driver, Terra Mate e alcune altre. Su GitHub adesso c'è la pagina ufficiale dell'organizzazione, che è proprio OpenTofu, quindi GitHub, OpenTofu, trovate tutto, trovate già anche il repo forcato e il manifesto forcato, adesso il fork è proprio uno a uno, cioè è esattamente lo stesso repo che c'era su OpenTF, è stato portato sotto OpenTofu, quindi trovate, per esempio, nel Readme, alcune diciture che riportano ancora OpenTF, e quindi, insomma, è un lavoro iniziale che sta partendo adesso, però trovate anche la issue, dove potete andare a vedere la discussione intorno alla scelta del nome OpenTofu, quindi si chiede, appunto, di trovare un altro nome, poi c'è tutta la discussione che porta alla scelta del logo e del nome OpenTofu, con anche una bellissima animazione che porta da OpenTF a OpenTofu. Naturalmente ci sono anche le reazioni dei media, della stampa di settore, riporta la più importante, che è ovviamente quella di The Register, che parla del cambio di nome da OpenTF a OpenTofu, l'ingresso nella Linux Foundation, e c'è una considerazione, secondo me, piuttosto interessante sul perché il nome è stato cambiato, al di là della simpatia, insomma, del nome OpenTofu, ma è fondamentalmente per questioni legali, cioè per togliere un possibile appiglio legale ad Aschicorp, per poter, appunto, rompere le scatole, ecco, alla fondazione stessa e anche a tutte le aziende che decidano di adottare questo software. Quindi, ecco, per togliere un possibile pretesto sul marco registrato. Infatti, c'è proprio una... sono delle dichiarazioni di Sebastian Stedil, che è CEO di Scalar, che parla, appunto, di questa decisione, di questo cambio di nome. E dice anche che Aschicorp è stata abbastanza aggressiva a mandare i classici Seas and Desist contro azioni di questo tipo e quindi per tenere le cose un pochino più tranquille, ecco, hanno deciso di cambiare questo nome. Si parla poi, in fondo, di come sarà composto il Technical Steering Committee, che è quindi il comitato che supervisionerà le decisioni tecniche prese su OpenTofu nella Linux Foundation, che ci si aspetta che sarà composto da cinque membri e, inoltre, che la Linux Foundation aiuterà con le decisioni e le rinforze, appunto, sulla questione della security, della governance e della security, quindi anche una supervisione su quali PR, quali commit dovranno o non dovranno entrare nel repo, quali saranno i requisiti per questo genere di merge, ecco, quindi una supervisione anche dal punto di vista della sicurezza. E, in ultimo, una cosa che ho trovato parecchio interessante, anche una voce di supporto da un grande gruppo di assicurazioni tedesco che conoscerete tutti, che è Allianz, che si è espressa proprio a favore di questo progetto e Mike Sutton, che è il CIO di Allianz, ha, appunto, sposato con interesse questo progetto dicendo che nell'organizzazione, appunto, in Allianz, le tecnologie open source sono alla base di varie soluzioni, di vari business case mission critical che portano significativi benefici all'organizzazione stessa. e quindi Terraform era parte e ora OpenTF è parte di questo, quindi loro hanno deciso di adottare e di continuare ad adottare OpenTOFU, ora, per le loro strategie di infrastructure as code, e quindi, ecco, una voce ufficiale piuttosto grande ed autorevole che va a sposare, ecco, e a endorsare questo progetto. Ecco, non posso che quindi riportare anche questo con anche tutti i nostri migliori auguri di un ottimo proseguimento di questo coraggioso e interessante progetto che è OpenTOFU, ripeto, nome migliore per un progetto open source 2023. Dovrei fare, potrei fare dei premi, premi per i miglior nomi e i miglior logo, li vincerebbe entrambi, perché anche il loghetto col tofu è molto carino. A prima di chiudere il capitolo open source Linux Bilbao, open source summit, sono arrivate alcune notizie, iniziano ad arrivare ovviamente alcune notizie su annunci, ecco, dati proprio a Bilbao, uno di questi parla del kernel Linux e ve la do solo così, è un cambiamento nella policy degli LTS, sapete che ci sono le versioni del kernel Linux LTS, long term support, ecco, i periodi dell'LTS sono stati portati ora dagli attuali sei anni a due anni, quindi l'LTS dureranno soltanto due anni. al momento quindi nel panorama, nel mercato, ecco, i kernel Linux sono tanti perché vanno dal 4.14 fino alla 6.1, queste sono le LTS attualmente presenti, sono sei, e quindi nel futuro quando, dopo che la 4.14 uscirà del suo periodo di LTS, ecco, si limiteranno un po' sul mercato queste versioni. Naturalmente non è un cambiamento che riguarderà tantissimo gli end user perché generalmente non si arriva così indietro a sei anni nel mantenere, nel tenere, ecco, sui propri pc, sui propri laptop, sui propri desktop le versioni del kernel Linux, forse però le organizzazioni saranno, le aziende, ecco, saranno un pochino più impattate, però è un cambio dovuto anche per ridurre un po' il carico sugli sviluppatori che devono mantenere queste versioni del kernel così vecchie, ecco, per esempio patchandole per includere o escludere delle feature e segnalo ma perché ci sono affezionato io proprio una patch al kernel Linux per togliere e iniziare un processo che poi porterà alla definitiva uscita dal codice dei driver per Razer FS, un file system che una volta era super noto, oggi probabilmente non lo usa e non lo conosce più nessuno, però era un file system che è stato il primo file system che io ho adottato nella mia avventura a Linux quindi me lo ricordo molto bene erano gli inizi degli anni 2000 ed era in quel momento il file system sulla bocca di tutti ecco per le innovazioni che portava poi sono successe una serie di cose soprattutto con il suo fondatore che non vi sto a raccontare però insomma è stato deprecato già da tempo poi nel marzo dell'anno scorso si è iniziato a marchiare appunto come obsolete le feature di Razer FS nel kernel adesso arrivano delle patch che rimuovono iniziano a rimuovere completamente le tracce ecco di Razer FS dal kernel e dal 6.7 quindi dal prossimo ciclo di release del kernel Linux queste patch verranno mergiate si inizierà a vedere che il supporto a Razer FS sparirà completamente e in chiusura di questo blocco visto che ho parlato di Linux Foundation un ascoltatore non so come chiamare chi segue il podcast un amico mi ha mandato su LinkedIn un link a un post scritto su LinkedIn da Michael Dehan Michael Dehan è il creatore di Ansible poi Ansible è stato venduto a Red Hat IBM insomma adesso non è più lì però insomma è una voce autorevole nel panorama open source ecco ha scritto un post su LinkedIn che vi invito ad andare a leggere andate sul suo profilo Michael Dehan e trovate questo post che è un pochino controverso diciamo vi dico soltanto come inizia ecco lui scrive onestamente credo che la CNCF e la Linux Foundation siano responsabili per praticamente tutti i problemi nell'industria del tech di oggi la complessità deve essere ridotta prosegue gli incettivi attorno alle fondazioni in generale sono per la crescita il dire sì e abilitare la complessità dei vendor la vendor complexity dice così che loro possano vendere prodotti e soluzioni quindi non sono iniziative per migliorare la qualità della vita degli utenti e non sono per aiutare le persone ad avere alternative a quello che usano concludo il giusto modo la right way to go quindi la cosa corretta sarebbe di tornare a un mondo dove lo sviluppo professionale torna alle sue radici di hobbysti piccoli team e piccole agenzie di consulenza che è una cosa che lui vede soprattutto in Europa che debbano pensare di meno agli ambienti intesi come ovviamente gli ambienti software gli environment tutto quello che sta attorno al software e ai clienti e questo sarebbe il giusto modo poi in realtà il post è molto più lungo prosegue con varie critiche a questo sistema io vi dico la verità non sono non sono assolutamente d'accordo con questa con questa conclusione però non vi sto non vi sto a tediare dicendovi un po' tutto quello che penso vi consiglio di andarvelo a leggere ringrazio Francesco per avermelo per avermelo segnalato e magari insomma fatevi la vostra idea o ditemi un po' cosa ne pensate magari per il momento ve la butto lì così ecco infine ieri è stato annunciato dall'i3 dall'i3 che è la terza iterazione del software di AI generativa di OpenAI per generare immagini ovviamente ormai tutti conoscerete dall'i ne abbiamo parlato anche qua quando è stata lanciata la versione 2 che era molto più potente della versione 1 e indovinate un po' la versione 3 è molto più potente della versione 2 sul sito ufficiale di OpenAI sulla pagina dedicata ad all'i potete trovare già un sacco di esempi di immagini generate appunto da dall'i con i suoi prompt ovviamente queste immagini diciamo che sono accuratamente selezionate ecco poi io con dall'i2 non sono mai riuscito ad ottenere la qualità delle immagini degli spot diciamo di OpenAI su dall'i2 sono molto selezionate ecco queste immagini però insomma si nota generalmente un notevole miglioramento rispetto a quello che era dall'i2 e tra l'altro poi ci sono anche delle comparative ecco ad all'i2 e all'i3 quindi ci sono delle notevoli differenze ma è in dubbio ora i dataset si sono enormemente ampliati ecco quindi ci sono un po' di esempi e poi si va a rimarcare che c'è un grosso focus sulla sulla safety diciamo sulla sicurezza intesa come una rimozione dei contenuti che possono essere dannosi nocivi violenti ecco questo genere di contenuti vengono vengono in qualche modo tolti eliminati dalla possibilità per da lì di generare questi output che vabbè sappiamo sappiamo come funziona insomma e questo è dall'i3 ovviamente se ne parla sui media vi segnalo Ars Tecnica potete andare a vedere su Ars Tecnica un articolo che parla bene di che cosa è da lì che cosa c'è di differente tra la versione 3 e la versione 2 anche se non si sa tantissimo nel senso che OpenAI non è che ha fatto disclosure di tutto quello che è il nuovo dataset o le nuove istruzioni ecotecniche per dall'i3 però per esempio una cosa che si fa notare è che la generazione dei testi pare parecchio migliorata infatti c'è un prompt in cui viene fatto dire viene fatto pronunciare una frase a una figura tipo un fumetto e questa frase è scritta all'interno del fumetto in modo molto accurato quindi ecco la generazione dei testi che è un compito abbastanza difficile che le generative faticano a fare adesso ce ne sono alcune che sono un po' migliori però qua pare parecchio migliorato e poi ci sono tutta una serie di considerazioni sulla storia di Dalì e anche sui problemi legali che deve affrontare OpenAI perché ovviamente Dalì è allenata su dataset presi da internet quindi da siti che contengono immagini e gli autori di queste immagini non sono molto contenti peraltro OpenAI ha annunciato che ora non è possibile chiedere a Dalì 3 di generare immagini nello stile di un artista vivente ecco questa cosa è proibita non che non sia presente quell'artista nei dataset però ecco generare qualcosa nello stile specifico di un artista non si può fare questo rimetterà al riparo da cause legali in corso non lo so però vi segnalo che c'è un'altra causa legale verso OpenAI che si sta ingrossando parecchio che è quella verso invece non Dalì ma verso ChatGPT perché la Authors Guild quindi la gilda degli autori insomma una sorta di sindacato degli autori di libri o di sceneggiature insomma ecco ha fatto causa a OpenAI e a questa causa si sono uniti dei nomi parecchio rumorosi e importanti come John Grisham Jonathan Frenzer George R.R. Martin e altri insomma quindi nomi di un certo peso ecco che vanno a unirsi alla carica di questa di questa azione legale nei confronti di OpenAI perché ovviamente il loro lavoro è incluso nel materiale che c'ha GPT va che GPT in generale ecco va a prendere a pescare per poi produrre i suoi risultati anche qua seguiremo vedremo un po' cosa succede ce ne sono tante di cause di questo tipo e non solo verso OpenAI quindi il tema è piuttosto piuttosto caldo vediamo un po' e a proposito di caldo ho parecchio caldo quindi la chiuderei qui grazie per avermi seguito domani sicuramente non ci sarà il buongiornissimo perché sono in viaggio devo raggiungere la ridente Pignola in provincia di Potenza per partecipare al Camp2Code come già avevo detto quindi se qualcuno di voi è lì ci vedremo lì altrimenti non ci vedremo e ci vediamo però sicuramente la settimana prossima con nuove puntatissime e anche mi beccherete in giro qualche intervistina poi lunedì magari ne parliamo grazie mille ciao grazie mille